musica allora, è facile fare questa canzone, ma non è veramente facile perché all'età di 20 anni io e qualcuno qua presente, quando uscì questa canzone feci una cassetta da 45, giro, in Spagna, con una facciulla, mettevo sempre quella 90 minuti, poi 90 minuti, ma perché? Perché erano giochi veramente fottutamente proibiti schiacciando schiarafaggi, perché la facciulla non doveva vedere dove cazzo pittava ora, questa canzone, o la fai a quel cazzo, cazzo, che a questo cazzo che a volte la cantano volete un pozzo? Avete ognuno di voi un gioco brevito? io lo so! Rubo mazzetto, scopo d'assi, siete vero figlia! rock'n'roll rock'n'roll mi stanno dicendo ma questo qua, che cazzo sto dicendo? ok, sono del 66 o ancora cazzate da dire? mi sono contento ci sono contenti? ci sono contenti? mi sono contenti? mi non è vero? mi non è vero? e mi è vero che non è vero non lo so ma 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 Noi, 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 noi Noi, 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 noi Noi, 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 no Il nostro corso programma è www.mesmerism.info Grazie a tutti 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 Grazie a tutti